20 maggio 2020, titolo, ordine scritto mostra che lo Stato dice falsamente che i campi di isolamento sono volontari. Sottotitolo, i funzionari sanitari firmeranno un ordine di arresto se tu non segui la richiesta. È documentato che ti isoleranno forzatamente. Un legislatore di Washington avverte i cittadini che i campi di isolamento istituiti in quello Stato, per ospitare la gente che si infetterà con il Covid-19, le avverte che, contrariamente a ciò che si dice, non sono volontari. Lui ha letto il documento che i funzionari sanitari devono presentare a chiunque è infettato. Se non segui le richieste di quarantena volontaria, io segnerò l'ordine di arresto e la polizia farà in modo che tu segua l'ordine. Ora vi mostrerò questo documento, il documento ufficiale del governo. Guardate, i media che sono a conoscenza dei campi di isolamento dicono che chi dice che non sono volontari è un teorico della cospirazione. Immaginate. Infatti, Facebook censurava i post insistendo che i campi di isolamento sono volontari. Ma quando c'è un ordine di arresto imposto dalla polizia per assicurare l'ubbidienza, non è volontario. Andiamo avanti. Lo Stato insiste che gli isolamenti e le quarantene sono volontari e confidenziali, nonostante la disinformazione sparsa da alcuni. Ma nella sua dichiarazione, il Dipartimento della Salute dice che i funzionari sanitari hanno l'autorità di isolare involontariamente una persona. Guardate, eccolo qui, il documento ufficiale dello Stato di Washington. Guardate nel riquadro rosso. Ordine dei funzionari sanitari locali per l'isolamento e la quarantena involontaria. Ordine d'emergenza di arresto involontario, in rosso, in rosso. È il documento da compilare. Vi darò il link del sito web dello Stato di Washington. Eccolo qua. Ordine di autorizzazione all'arresto continuativo, detenzione involontaria per quarantena o isolamento. Questo ci mostra quanto siamo vicini alla fine, quando verrà imposto il marchio della bestia. Un treno con una livrea particolare, bianca, con il tricolore sulle fiancate la croce di Esculapio accanto alle porte. Per chi non lo sapesse, la croce di Esculapio è il simbolo del soccorso, quello che si trova anche sulle insegne delle farmacie. A notarlo, fermo a Milano nella stazione di Greco, sono stati rappresentanti sindacali di ADL Cobas, che hanno chiesto subito spiegazioni. Ed eccole che sono arrivate. È un treno, hanno detto, sanitario per il trasporto di malati o feriti in caso di necessità, derivanti da situazioni di maxi emergenze, che nasce come progetto in collaborazione tra Ferrovie dello Stato, Protezione Civile e Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Areu. Ma dove devono trasportare gli eventuali malati? In dei campi di internamento? Perché questo treno, visto lo scemare dell'epidemia? Perché tutti i media parlano di seconda ondata in autunno? Come fanno ad essere così sicuri? Grazie a tutti.